Stiamo entrando dentro il Tribunale. Lo chiede l'Avvocato Franchino. Tribunale di Venezia, giugno 2014. Nel piano del processo Mose, Niccolo Ghedini non si concede ai giornalisti mentre entra in aula come difensore dell'ex Doge del Veneto, Giancarlo Galan. Una vita divisa tra le aule di Tribunale, difensore con la D maiuscola di Silvio Berlusconi. Una vita dedicata alla politica con un seggio in Parlamento, tra Camera e Senato, dal 2001 in Forza Italia. Una vita trascorsa in Veneto, tra Padova, nello studio legale dove aveva mosso i primi passi accanto al già affermato Avvocato Piero Longo e Santa Maria di Sala, la sua residenza di campagna. All'età di 62 anni è morto in un anomalo agosto di campagna elettorale Niccolo Ghedini, un principe del foro dei modi eleganti che 5 anni fa era stato eletto senatore nel collegio uninominale 6 Bassano del Grappa e così parlava di flat tax. Le risorse si troveranno dalle meno tasse. Veda, c'è uscito anche recentemente un saggio della cosiddetta flat tax, cioè della tassa piatta bassa, che in alcuni paesi dove è sperimentata ha provocato un aumento del gettito fino al 40%. Una vita in Forza Italia, di cui fu coordinatore Veneto e di cui assunse le redini a livello nazionale nel 2016. Una vita dedicata alla giustizia, una vita in difesa di Silvio Berlusconi, di cui parlava così ai nostri microfoni nel gennaio 2013. Io credo che ancora oggi se uno dovesse decidere chi affidare i propri risparmi tra Monti, tra Bersani e Berlusconi, non potrebbe che scegliere Berlusconi.